Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su The Last of Us parte 2 Nello scorso episodio, beh, innanzitutto stavamo facendo da pattuglia con Ellie Eravamo rimasti con Abby più o meno E a quanto pare Abby ha qualcosa in sospeso con Joel, Tommy o con qualcun altro della città Infatti sono entrati in questo accampamento, molto sicuro Joel! Tommy! Sì, adesso li dobbiamo andare a cercare Joel! Joel e Tommy tra l'altro sono stati picchiati Per fortuna Ellie è riuscita a trovare questo luogo, speriamo di riuscire a trovarli il prima possibile A meno che non li abbiano portati in un altro luogo In caso dovrei poter uccidere tutti, spero anche Abby Me l'hanno fatta controllare ma sinceramente non mi interessa Per me può anche morire istantaneamente Non mi ci tocca Joel Eh, Joel Adesso qui andiamo in stealth, per favore, perché se ci beccano tu vedi di non chiamare nessuno mentre siamo qui dentro Oh, grido in lontananza di Joel Eh, cerchiamolo adesso, quindi ancora qui mi sa A meno che non è appena successo il casino Non sappiamo quanto tempo sia passato Se è passato Viene da sotto Che siano tutti lì da lui In caso potrebbe essere un problema perché là erano belli armati Una scala per sotto dovrei trovare Ok, molto vicino, infatti C'era un semi interrato qui Spegni la torcia e andiamo Stealth oppure centri diretta Solo Abby Cavolo, messo male, quanto l'ha picchiato Vabbè Ovviamente il tizio pronto per prenderci ci doveva essere Erano tutti qui Come ha fatto a non vederli Ellie Lasciatemi cazzo Ma, sì, li ucciderò tutti Madonna Si difende e le insultano pure Madonna, se vi saranno tutti addosso Sanno dove è andata Ellie In che direzione Quindi Cosa? No Non mi dire che Alzati tu Ellie Cioè, insomma Non l'ha ucciso No Ti supplico Vi ammazzo tutti Lo giuro anch'io Non mi importa con chi Madonna Il fatto che sente le voci avattate Mi sa che è un ritorno di un trauma No Mi ammazzo No Non mi ha ucciso Joel all'inizio del gioco Di supplico Cioè, inizio È iniziato da relativamente poco Terzo episodio Ma no Perché è poi soltanto Joel? E Tommy l'hanno lasciato lì E credo che non vogliono nemmeno uccidere noi Perché hanno fermato il tizio con la pistola in mano Ma dai Ellie M'hanno trovata M'hanno lasciato lì quindi Spero anche il Corpo di Joel Non sappiamo se è ancora un cadavere Mi dispiace Jesse Sono qui Madonna però è conciato male Hanno conciato tanto male Dai No Credo che fosse morta nello scorso gioco Mi stavo disperando E me lo ammazzi in questo Quanto siete stronzi Naughty Dog No Ditemi che è in convalescenza Per favore Tanto ormai le abbiamo visti in faccia Io li cerco fino alla morte Non possono essere andati lontani Credo Appena li trovo Madonna Cioè non provate manco a farmi giocare di nuovo nei panni di Abby Mi butto sotto i ponti Altro che Tommy Ciao E' per questo che i bastardi me l'hanno fatto vedere mentre suonava e cantava perché Stava per morire Il suo ultimo sogno Li odio Odio Non lo ti log adesso Troppo silenzio Mi sa che è morto No Non me lo dire così Maria ha paura che non mangi Eh C'è credo Lei non può fermarci Vendichiamo Joel Beh Jackson si indebolirebbe Vado io Ammazzo tutti Erano una decina Easy Uno ad uno No Non ho detto questo Sì però è quello che accadrà E se tornassero i cacciatori Sto parlando con te o con lei Comunque un rischio Fosse successo a noi Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora No non è vero Ma certo che è vero Maledizione Non possiamo sapere con certezza Se vengono da Seattle Washington Liberation Front L'hai letto sulle loro divise Forse erano già che rubate Ma che E se vuoi le cose si spostate Che stai dicendo Non sappiamo bene Da dove possono Venire esattamente Sai cosa? Ma credo che lasceranno delle tracce Domani io parto Se vuoi venire con me Ben Non hai idea Del casino in cui ti metti Eh vabbè Non sai quanto è grande il gruppo Che armi hanno Tommy non mi interessa Non mi fai cambiare idea Eh poverelli Ha perso quasi tutto Joel era una di quelle poche cose E gli è rimasta Gli hanno tolto pur quello Madonna Dammi un giorno Ne parlo con Maria Ok Prenditi il tuo tempo Sì Mentre Qui loro si allontanano Ogni secondo che passa Beh Inventerò qualcosa Solo un giorno Ti prego Anche lui ovviamente Starà soffrendo E vorrebbe partire subito Ma ha delle Responsabilità A Jackson Ok Ok E quindi M'hanno veramente ucciso Joel Così Madonna E di ogni In qualità di player Che ci ha giocato con lui Lo vendico Mio dio Se è così E spero che il gioco Non faccia il bastardo Durante tutta l'avventura Perché Mi sa che adesso Da ora in poi Questo qui sarà il nostro obiettivo principale Io speravo tipo Sì I momi fanno fare una parte bella stelta Ammazzo tutti Recupero Joel Eh sì Me l'hanno ucciso In questo momento Sto pensando a tutto quello Che ho dovuto passare insieme a lui Nel primo gioco E adesso così Che pezzi di mare Adesso Ellie Evitiamo Di pegni stay Andiamo a malmenarli Figaro Di solito la vendetta Non è una cosa che mi Mi invogli così tanto Però stavolta Sì Stavolta Si va Il modo Almeno voglio delle spiegazioni Probabilmente non basteranno Capisco che Joel Ha fatto di tutto Per sopravvivere Però Ucciderlo così a freddo Senza spiegazioni E niente Mi sembra un po' esagerato Io questi qui Li ritrovo Li ammazzo tutti A me va bene anche mollarti qui O me ne vado con Ellie Ciao Hai proprio Le vuole venire con noi? Lo so Non so perché ho paura Che me l'ammazzino anche È lì Se vai Ti seguo Punto Grazie Dina Un po' peico Ciopeo Boh Un altro NPC a cui badare Con il primo gioco con Ellie Per Vabbè Li chiamo NPC perché Di per sé lo sono Però Comunque Si crea un valore affettivo Fra i due personaggi Anche se uno è Il simbionte Dell'altro Allora Dina Let's go Verso Seattle Oh cavolo Mi sa che questa qui era La casa di Joel Secondo me Era un uomo Alquanto amato Qui Credo che Lavorasse molto Per rendere Jackson sicura La mano trema Tutte le armi Voglio farlo io Ok Sto bene Andiamo Sto bene Ma Ma Mi sa proprio De no Io ti aspetto qui Almeno Almeno non c'è più La preoccupazione Di Joel Per Sara Per Joel Da Ellie Gli aveva fatto pure Il disegno E lo ha incorniciato Signori Quanto fa soffrire Tutto ciò No La testa col gufo Che si sta segnando Un gufo Ok Abbiamo un botto di pagina Nel diario Washington Liberation Front Chi sono Tommy ha detto Che si chiamava Abby Ci siamo un po' Sognati un paio di cose Anche una sottospecie Di poesia Per Joel Al piano superiore C'è una spirapolvere Joel Uomo di casa E qui c'era Una sottospecie Di suo ufficio A quanto era Ah tutte le sculture Ci sono in casa Le creava lui Le intagliava E qui c'è anche Un'altra chitarra Disegna anche quella Le mie promesse Al tramonto Valgono quanto le altre Ci aveva detto Che ci avrebbe insegnato A suonarla Credo che l'abbia fatto Alla fine No Sono passati 4 anni Suppongo che Siamo venuti qui Anche per Per recuperare Un paio di armi Oltre ai vari ricordi E voglia di Di morire In questo momento Cosa è la giacca Con cui ci ha accompagnato Nello scorso gioco Il suo odore Lascio tutte le giacche Qui dentro per sempre Credo che l'odore Dovrebbe rimanere Forse Almeno un'ultima cosa Che è rimasta di lui Non c'è Stollando quello Per capire Però È una di quelle Che ha incornicato La foto Gli ha dato Quella che Maria Gli ha dato A Ellie E poi Però quello che ha detto È vero Se fosse successo Qualcosa ad Ellie Già Joel sarebbe Andato chissà dove Per vendicarlo L'orologio Tempo per te E va bene Dina Solamente perché Ti sei fatta Una canna Insieme a me Che succede? Ah è Maria Ok Che c'è Maria Io non lascio andare Tommy Che so Stroncia Trovo frase testuale Che ci sta per dire Sto partendo Sto partendo per Seattle Vorrei poter restare Ma non posso Tommy È già partito Ho bisogno di fare giustizia Ellie cercherà di seguirmi Ma tu fermala Prendile le armi E nascondi i cavalli Chiudile in una stanza Sì Come no Ti chiedo del tempo Per farlo Ecco perché Ti amo tantissimo Tommy Ci stavo dando Un giorno di tempo Perché in realtà Lui è partito Prima di noi Perché non ha portato Anche me Non voleva far ammazzare Anche te Serviva una squadra Per inseguire Quegli stronti Non potevo dartela Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi Te lo puoi scordare Preferirei che restassi Ma ti conosco bene Andrai con lei? Sì Bene Risposta secca Veramente stavamo prendendo le cose Nessuno ha mai detto niente L'abbiamo detto Mi dai un cavallo? Ne basta uno in teoria Ci sei la man tram Grazie Andiamo da Shimmer Forza Veloce Non mi ricordo Il nome di nessuno Dei personaggi Mi hanno presentato Oltre ovviamente Tommy Maria Dina Ellie E Tommy Tutti gli altri per me Sono sconosciuti Però c'è Shimmer C'è Shimmer Riportatemi Quell'imbecille Di mio marito Va bene Va bene Farò sicuramente Va bene Partite ora Finchè c'è luce Finchè c'è luce C'è speranza Cercate le luci No invece no Li abbiamo uccisi tutti E' un'altra E quindi è lì Andiamo all'inseguimento Di Tommy Voleva farci rimanere Ed invece Maria l'ho fatto uscire No sì anche a lui Però soprattutto a noi Ci sta facendo uscire subito Ci ha dato pure il cavallo Seattle Skip temporale Istante Giorno 1 Quanti giorni ci devo rimanere Scusa Vedo dall'improvviso Un sopravvivi Cento giorni A Seattle Aveva un cacciatore addosso Voleva affogarlo E E Joel non arrivava alla pistola Cavolo Ah gli sta raccontando Di quella volta in cui Ellie Ha dovuto sparare Per la sua prima volta Ho reagito distinto E ha salvato Joel Mi sono lanciata sull'arma L'ho ferrata E Gli ho sparato in faccia Brava Ellie Quattordici Quanti anni avevi Quando hai ucciso il primo Un infetto Dici Ah No Un individuo cosciente E non fungire Dieci E quindi non era stata La sua prima uccisione Un tipo aggredì mia madre Io lo pugnalai Merda Stavolta mi batti Già sono proprio cazzuta Ci siamo perse No 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 Tranquilla tranquilla Direi di no Ah ah Ehi un po' di fiducia Continuiamo a casa Cioè Mi sa che c'è solo un passaggio Dove poter continuare Un contratto con Joey Uccisi tutti Sterminati Forse questi del WLF Sono collegati a loro Quello che pensavo anch'io Non mi sembrava lo stesso gruppo E allora Chi? Lo farei se Rischiassi di morire di fame Mangiare umani Uccidere Ammazzare umani Probabilmente si Ragazzi so che quello che ho appena detto L'ho detto con una Tranquillità assurda Ma suppongo che sia Veramente così Però a differenza di David Non mi aspetterei Nessun Nessuno delle mie vittime Che lo accetti E dica no fa niente Perché David diceva Lo faccio per sopravvivere In maniera pura incazzata Come se loro Si dovessero sottomettere A prescindere Per far sopravvivere lui No col cazzo Ovviamente uno si difende Questa qui sarebbe La mia differenza Saprei che andrei incontro Sì Alla cattiveria Alla difesa personale Di chi vado incontro Comunque Grande Shimmer Ci hai portato fino A una nuova zona Ah una mappa Benissimo Io esco dalla finestra Perché sono A cab Una mappa Una mappa turistica Beh È già qualcosa Già Oh fiume Fiume Guarda qui che bello Il fiume Foreste Foreste Ancora foreste Io non so dove saranno Da finire Per fortuna Ci avremmo qualche sorta Di senso e l'orientamento E questa è la ZQ Già Occhio alle sentinelle Occhio alle sentinelle O sarebbe fighissimo Se ci facessero salvare In alcuni punti del gioco Firmando gli avamposti Ma non credo che sarà così Quando arrivi al cancello Cerca un solo lato di nome Chiaren Digli che ti mando io Consegnagli il chilo E ti farà entrare Buona fortuna Non chiederò Di che chilo sta parlando Però quindi dovremmo Stare attenti a questa guardia L'evoluzione Degli cittadini Degli infetti Capito Ho ripensato alle parole Del piccolo Sam Quando prima di morire Diceva Non è che Quando un infetto È ancora dentro Perché effettivamente Non credo che il fungo Faccia collassare Gli organi E tra l'altro Alcuni infetti Li abbiamo uccisi Ammazzandoli malamente Da dietro In maniera stealth Soffocandoli Quindi mi sa Che ci sono Gli umani Sono ancora vivi Non sono morti Però sono controllati Chissà Se sentono ancora Dolore Gli umani E non il fungo Ovviamente E se capiscono Più o meno Che cosa gli sta succedendo Se il fungo Li fa completamente Annebbiare la mente E comunque Ho scoperto Che i versi Dei clicker Sono completamente umani Non perché Lo abbia letto Ma perché li so fare anch'io L'ho scoperto Completamente a caso Abilità di cui Non avevo bisogno Ma che sono riuscito Ad ottenere Intruso ci si è vista Quanti siete Quante persone Avete ammazzato Credevano che sono Dello stesso gruppo Forse Ah infatti VLF Ma sono The dark VGF When losers fail Quando siete dei falliti E fallite Non si sa come avete fatto Andate in questo gruppo Di falliti Un po' troppo sul personale Dina aiutami Devo salire Dina Dammi una mano Ok Brava Dina Dai Dai Ellie Usa tutta la tua forza Non so come Tu abbia fatto Certo Ha usato tutta la sua forza Nei tricipiti Per riuscire a fare Sta cosa Credo di dover andare qui Ok Brava Ellie Qui a covalciarmi Andare dall'altro lato Che fatica Spero di poter aprire La porta per Dina Forse era un po' lontano Ma secondo me Se correva di più Ce la faceva Lara Croft Ce l'avrebbe fatto Salto in scatto E dillo prima Che esiste Credevo che facesse Il salto migliore Anche da Anche senza Stavo solo morendo Sì sì Stavo solo morendo Come se non fossimo morti Per davvero Ed eccoci A Seattle Dove sono quei bastardi Le ammazziamo tutti Quindi sì effettivamente Qui c'hanno anche loro Una loro intera città Si apre E non si apre Dobbiamo attaccare Un cavo Maledetti Vi inizio Vi inizio a distruggere Anche le finestre Cosa? Cancello principale Anche se non so Dove sia questa base Del Sir Venn Comunque ho un'informazione In più E di sicuro Non mi fa schifo E credo di dover Sì esatto Prendere il cavo Da questo generazio Generatore Stavo dicendo generazione Per qualche motivo E lì Funziona Sembra di sì E dobbiamo lanciare Questa funela All'altro lato Trasportare Credo In realtà ci potrebbe anche arrivare Però credo di poterla Semplicemente lanciare Easy E andiamo dall'altro lato E allora Prendiamo sto cavo E attacchiamo Dobbiamo aprire a Dina Magari L vuole anche aprire Dina Però questi qua Sono fatti loro Ok Benissimo signori Sì ho aperto tutto Si sbrighi Brava ragazza Apro Credo Una finestrella Tutto bene Non c'è nessuno In realtà Un po' più grande Signori Molto grande A differenza di questo qui Che era piccolino Cioè Nella media Anche sopra Insomma Comunque dimmi che basta Premere un pulsante E va tutto E ovviamente No Che si deve fare Adesso è lì All'altro canto Posso aprire una porta Che prima Presumibilmente era chiusa E mi sa che devo Portare il cavo Fin qui Già Posso prendere Di nuovo sto cavo E lanciarlo all'altro lato Arirai Wow Infatti adesso È da questo lato Spero che arrivi Giusto giusto Fin qui E ci arriva Ci arriva dai Un po' di fatica È bello teso Ma fa niente Comunque Rientriamo Dalla via migliore E accendiamo Ah devo Per caso Mettere la password C'era scritta nel foglio Vabbè un attimo Lo devo leggere Quale cancello è questo qui Credo quello principale 0 5 1 2 0 5 1 2 Sì Fortissimi E va signori Apriamo il cancello Forza Dina Sbrigati Prima che si distrugga E siamo chiusi qui Per sempre Da qui non usciamo più O almeno Shimmer Non esce più Webby ragazzi Come va Fammi salire E continuiamo Con il piccolo Shimmer Ho trovato un biglietto Ci sono dei codici Parla Di un rifugio Del WLF In una certa Base Del Serevena Serevena Sai dove è il Serevena? A meno che non posso controllare Nella mappa A sfondi mazzolate Come faceva Joel Oh merda Serevena hotel Serevena Easy Abbiamo entrato subito Alla zona Ok Cerchiamo di passare Il cancello Fedra 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 Ok a quanto pare Non gli vogliono Tanto bene Se a Boston Ti avessero beccato A scrivere Certe cose Ti avrebbero Pestato a sangue Come minimo Dai posti Questa è tratta tu Molto belli Ci potrebbe continuare Qui con Shimmer Ma egli ha deciso No non ci salgo più Guardalo Non ci sale Non ci sale Non ci sale su Shimmer Però mi sembra Che ci sia un cavo Collegato da qualche parte Qui forse il generatore Dove è appunto Collegata tutta la struttura Proviamo a far riprendere La corrente Non va? Non c'è benzina Niente benzina Nice Torna su Shimmer adesso Ci dovrebbe essere una zona Con una benzina O almeno è quello Che abbiamo letto Sul foglio Il messaggio parla di benzina Nel parcheggio del tribunale E alla cupola D'accordo Andiamo a cercare per di qua Hai idea di come trovare In questi posti? No C'è un coniglio È quello che abbiamo già fatto Penso di sì Chissà come Scopro ha fatto A far passare il cavallo Dove siamo? Grande e bella domanda Vediamo Magari me lo dice Direi che Che siamo qui Easy Quindi c'è proprio la mappa Enorme Fuck Fedra Gate Ok Bellissimo come segnarsi il nome Non potremmo fare il giro Invece che Dover aprire quel cancello E allora devo andare Al parcheggio Che è in alto a sinistra Let's go Che diavolo è successo? Ok ne so Terremoto Che l'esercito abbia bombardato Che motivo avevano? Eliminare gli infetti Eh l'hanno fatto E l'hanno fatto Di solito funzionava Con gli infetti O i ribelli Entrambi Merda Credimi Sei stata fortunata A non crescere in una ZQ Comincio a pensarlo anch'io Chissà che avrei fatto Comincio a crederci Non a pensarlo Forse sarei entrata In quell'esercito di stronze Impossibile Non ti ci vedo A prendere ordini in nota Già Hai ragione Detto tra noi Credevo che la ZQ di Seattle Fosse molto più Popolata Eh Forse ho trovato Un botto di gente E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto Tribunale Ah bravo Ah non l'avevo visto Grandi Siamo i elli ceccati Comunque ho visto Che c'è Una Una chitarra in sconto qui Sì Allora Fammi vedere questa chitarra in sconto Signori Guarda qua Già Me lo sto segnando Me lo sto segnando Secondo te Quanti sono i membri del VLF? Che ne so Almeno otto Speriamo di non avere sorprese Andrà tutto bene Ma dobbiamo stare allerta Per cercare scorte utili Un attimissimo E qui c'è una chitarra in sconto Madonna La devo andare a prendere Vedo che qui c'è un bel buchino Vediamo se qui c'è la chitarra Tanto in sconto che cercavo Caspita Chissà come doveva essere ai tempi Mmm Ci sono alcuni dischi Eh Sick Grandi L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina Che ruffiana Che lecca culo signori Dov'è quella merda di chitarra? Eccola Era il piano di sopra forse No O forse ci stanno trollando E qui E qui signori La chitarra migliore Arruba Arruba Mettine lo zaino in qualche modo Spero Speriamo che c'è No Mi sa che non entra E la suoniamo adesso Volevo portarla a casa Chissà però quando torneremo a casa Quindi forse un buon problema Posso suonare io adesso Come avevo insegnato papà Joel Ok Così Va bene Mi devo un po' riabituare Mi devo ricordare più che altro Perché non mi ricordavo come si suonasse Perfetto Perfetto Quindi ci sarà più di una sezione così Come all'inizio del gioco con Joel che suonava Una canzone scritta per Joel sul momento Niente Beh non era male per essere niente Ricordi quella notte al falò? Certo No Io no Non credo di esserci mai stato No La madonna Di no Ok riprovo Farò finta di sapere cosa io stia suonando Ok Ah che bel momento Signori Non so perché mi sembrare averla già sentita da qualche parte Lei che guarda Probabilmente io sarei uguale in questa situazione Quella a Dina Guardo Però non ascoltando Cercando di capire Quali sarebbero gli accordi Che sta facendo Non sapendo minimamente quali siano Ah si muove le dita in quella maniera Poi Che cazzo cambia Scusi Una roba del genere Sapete una cosa ragazzi Credo anche che questo episodio sia durato abbastanza E forse posso anche salutarvi con questa canzone finale Che intanto va di sottofondo Brava Ellie continua così Quindi Veramente la morte di gel Così improvvisa Mi ha distrutto Però In fondo siamo in viaggio per vendicarlo Non ci dobbiamo abbattere così facilmente Infatti io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete like e iscrivetevi E noi ci vedremo al prossimo Dove andremo a fare il culo A quei dannati Che Hanno ucciso Joel Quindi Se il video è piaciuto Mettete like e iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Di The Last of Us Parte 2 Appena Ellie finisce sta canzone Si è il copio E ti giuro sclero Perché già ho dovuto togliere la musica Alla canzone del DLC E va bene E lasciamo qui la chitarra Quindi no Non è giusto Però vabbè Quindi adesso che la canzone è finita Vi posso salutare Ciao Ciao